Sono sette i nuovi casi di positività al covid-19 in Abruzzo, localizzati tutti nella asla di Pescara, e due invece i nuovi decessi. I numeri odierni dell'emergenza coronavirus residuiscono una percentuale dello 0,5 per cento sul numero complessivo di tamponi analizzati che oggi è pari a 1.313. 175 pazienti, meno 10 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 5 e meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.092 e meno 34 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle asle. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 391 pazienti deceduti, con un aumento, come detto, di due unità rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati, sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 1.272 con una diminuzione di 45 unità. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 62.161 test, di cui 55.439 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla asle Avezzano-Sumona-L'Aquila, 814 alla asle Lanciano-Vastochieti, 1.506 alla asle di Pescara e 646 alla asle di Teramo.